Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori ben ritrovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Iniziamo dalla cronaca, la squadra mobile della questura di Pistoia è arrestato e condotto in carcere un italiano di 47 anni, residente nel centro storico gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. La misura detentiva è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari a causa delle ripetute violazioni compiute dallo stesso soggetto rispetto alle precedenti prescrizioni a re domiciliari con braccialetto elettronico che derivavano da un precedente arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso indagato dal 1 giugno era stato inoltre sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni grave ed aggravate. Misura tuttora in atto. I titoli delle principali notizie. La Confesercenti chiede di posticipare saldi estivi, il maltempo di questa primavera è inciso negativamente sulle vendite stagionali, si arriverebbe a svendere prima di vendere, dicono i responsabili dell'associazione. Il comune di Marliana ha un nuovo servizio per le imprese del territorio, si chiama Sportello più risorse per lo sviluppo, offrirà informazioni su bande e opportunità di finanziamento per comuni e associazioni imprese della montagna. Facendo i debiti scongiuri per la Giorgio Tesi Gruppo stasera potrebbe essere la partita che vale la promozione in Serie A. I biancorossi giocheranno a Torino con il primo match point a disposizione. Seguite TVL, seguiteci, ci sarà il dopogara in diretta e la differita della partita. Confesercenti chiede quindi di posticipare saldi estivi, il maltempo di questa primavera infatti potrebbe avere inciso negativamente sulle vendite stagionali. C'è ovviamente, come avete potuto, non sentire un problema a questo servizio, vedremo se riusciremo a ripristinarlo, altrimenti ve lo proporremo nelle prossime edizioni del telegiornale. Torniamo a parlare della vicenda del Museo Marino Marini di Pistoia. Vediamo. A che punto è la vicenda del Museo Marini? Quali le prospettive future? Sono alcuni degli interrogativi che hanno dato il là all'incontro che alla Fondazione Tronci è stato dedicato alla situazione del Museo Pistoiese, intitolato all'artista scomparso nel 1980. L'iniziativa è venuta l'indomani la proposta della Fondazione Caripit di ospitarne le opere presso propri musei, in attesa di una sede definitiva, il luogo individuato, il complesso di San Lorenzo e stara dell'Associazione Amici della Politica. È nello spirito della nostra associazione creare un dibattito politico, cercare di trovare, di capire quali sono le ragioni per determinate situazioni e cercare razionalmente di fare delle proposte per magari migliorare tutto quello che c'è nella nostra città. Tra i punti toccati nell'occasione è la vicenda del vincolo delle opere al Palazzo del Tau, culminata con la sentenza del Consiglio di Stato che l'ha annullato. I giudici hanno condiviso l'impostazione secondo la quale la pertinenza non può coinvolgere, non può essere riconosciuta su un bene appartenente a proprietà diversa, perché il caso particolare di questa situazione era costituita dal fatto che il vincolo pertinenziale era stato apposto sulla collezione che apparteneva appunto alla fondazione, che appartiene alla fondazione Marino Marini rispetto all'immobile sul quale veniva apposto il vincolo pertinenziale che invece è di proprietà del comune di Pistoia. Nell'incontro sono state anche avanzate alcune proposte come la valorizzazione delle opere di Marini, presenti in città. Che si possono vedere distribuite nelle collezioni pubbliche, organizziamo un percorso tematico di ottimo livello, le risorse professionali sia nel comune che in Pistoia Musei ci sono, con un punto di interpretazione con laboratori per le attività educative che non sia qualcosa di succedaneo al museo chiuso, ma qualcosa di aggiuntivo. Questo non ci sono vincoli della sovrintendenza, non c'è la sentenza del Consiglio di Stato che può incidere, c'è solo la volontà di farlo. La fondazione Mike e la messa in opera del murales, vediamo. Finalmente la scuola è finita e possiamo dedicare comunque gran parte della giornata a fare il murales. Finalmente abbiamo iniziato a stendere il colore. È divertente, solo che ci sporchiamo un bel po', però è divertente e sono felice di essere qui con i miei amici. Una mattinata importante alla fondazione Mike di Pistoia. Le prime pennellate di colore del murales che abbelerà una parete esterna della casa famiglia sono state dipinte a più mani. Oltre alle studentesse e agli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo che hanno partecipato al progetto murales per la Mike, si sono messi al lavoro anche gli ospiti della casa famiglia. Siamo di nuovo qui finalmente, il lavoro sta proseguendo. Come vedete abbiamo iniziato la fase con il colore, quindi siamo contenti e anche perché stamattina inizieremo anche la collaborazione con gli ospiti della Mike. Inizieranno a dipingere alcuni elementi che sono stati creati per loro ad hoc in questo caso, però poi quando avranno preso anche loro un po' di esercizio potranno intervenire e andare anche più avanti negli altri giorni, nelle altre pareti in modo che ci sia uno scambio reale e bello. Il murales è il risultato di un progetto al quale hanno partecipato dodici classi del liceo Brunelleschi di Montemurlo. Sì, perché è terminata la scuola, i ragazzi del liceo sono potuti venire al mattino e quindi sono già abbastanza avanti. Il disegno ormai era completo, hanno cominciato a stendere il colore e qui anche i nostri utenti di mattina possono dare una mano ed aiutare e quindi sarà tutta la settimana da oggi fino a venerdì e quindi fino a venerdì in molti potranno venire a partecipare. Devo dire che sta avvenendo bellissimo, si comincia a vedere il colore del sole, dello sfondo e fa un magnifico effetto. E io lo chiederei anche Alessandra che abita in casa famiglia, vero? Ti piace Alessandra questo murale? Sì, è bello. Vero? Sì, è bello. I colori? Il colore rosso, giallo sole. Bellissimo. Bellissimo. Ok. Ci sono due? Due. O? Orsi. Orsi. Orsi, che sappiamo? Perché è il simbolo di Pistoia. Bebe. Capito? Il comune di Marliana ha presentato un nuovo servizio per le imprese del territorio, si chiama Sportello più risorse per lo sviluppo. Il comune di Marliana ha attivato lo Sportello più risorse per lo sviluppo, il servizio di assistenza e informazioni di Anci Toscana sui bandi e sulle opportunità di finanziamento per i comuni, le associazioni e le imprese della montagna pistoiese. Il presidio si basa su un accordo tra l'Unione dei Comuni e il comune di Marliana con servizi informativi congiunti e servizi di consulenza e accompagnamento che si realizzano anche sul territorio, personalizzati e adattati alle necessità locali. L'iniziativa è stata presentata all'albergo Ristorante Amelia di Momigno. Lo Sportello è trasversale. Qualunque tipo di azienda che svolge la propria attività sul territorio, ovviamente dico questo perché poi sono i vari bandi che si apriranno a determinare quali tipologie di aziende potranno partecipare. Lo Sportello comunque tramite una newsletter, tramite il sito e tramite i portali del Comune offrirà un aggiornamento costante sulle opportunità che potranno essere eventualmente colte dalle aziende che riterranno interessanti per la loro attività imprenditoriale e poter provare a partecipare a questi finanziamenti. L'obiettivo del Comune qual è? L'obiettivo del Comune è semplicemente quello di cercare di aiutare chi con coraggio fa impresa in questi territori che purtroppo siamo consapevoli in termini di infrastrutture non offrono le stesse opportunità delle città ma che offrono altre opportunità in termini di valori paesaggistici, naturalistici, di qualità della vita e che quindi con un piccolo aiuto potranno essere valorizzati. Questo ovviamente non può essere l'unica azione, è una delle azioni da mettere in campo. Stiamo toccando gli ultimi dettagli per aprire anche un punto Sportello Lavoro con il centro per l'impiego sul territorio. Queste sono tutte volte a cercare di favorire quanto più possibile per i mezzi ovviamente in possesso del Comune chi fa impresa e affinché rimanga sul territorio. L'obiettivo fondamentalmente è quello, aiutare le persone che vogliono rimanere sul territorio a mantenerlo e a qualificarlo sempre di più. Sono gli Endless Sermony, il secondo nome annunciato per quanto riguarda il Serravale Rock che si terrà dal 28 al 30 luglio a Serravale Pistoiese alla Rocca di Castruccio. L'esibizione dell'alternativa Rock Band di Verona è in programma per domenica 30 luglio. Fra i maggiori successi delle band ricordiamo o diciamo per me soprattutto Iperspace e Home Recordings, raccolta di cover arrangiate in versione semiacustica. Quindi dovrebbe essere anche un concertino interessante, perlomeno originale. Vedremo, c'è tempo, è a fine luglio. Stasera invece alle 19.20, quindi qui c'è meno tempo, appena dopo il telegiornale andrà in onda un servizio speciale a cura di Paolo Bardelli dal titolo Homo Appenninicus. Fra gli argomenti trattati ci sarà quello che riguarda il problema dello spopolamento sulla montagna con particolare riferimento a Sambuca Pistoiese. Lo speciale andrà in onda, in replica, anche sabato alle 13.05. Un po' di sport facendo debiti scongiuri per la Georgia Tessy Group stasera potrebbe essere la partita che vale la promozione in Serie A. Biancorossi giocheranno a Torino con il primo match a disposizione avendo vinto le prime due sfide al Palacarrara. Infatti alla formazione di coach Brienza basterà vincerne un'altra per tornare nella massima categoria. Il match è in programma alle 20.45. Ci sarà ovviamente anche TVL con la diretta del dopogara intorno alle 22.30 circa, anche se poi lo sapete, chi segue la Palacanestra è difficile avere un orario preciso. Poi domani sera daremo anche la differita dell'incontro alle 21.05, quindi in prima serata. Seguiremo da vicino anche cosa accadrà in Piazza della Resistenza, dove sarà in funzione un maxischermo e dove si raduneranno molti, se non tutti gli altri tifosi pistoiesi, ad eccezione dei 200 fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto e che quindi vedranno dal vivo al Palaruffini questa gara 3. La pistoiesi ha comunicato di aver riconfermato il direttore sportivo Gianni Rosati. Dopo un lungo e attento confronto con la proprietà, si legge in un comunicato della pistoiesi, il direttore sportivo Rosati ha ribadito l'attenzione, l'intenzione di voler proseguire il percorso in arancione. Una volta completati gli adempimenti burocratici per l'iscrizione al campionato, si legge ancora, sarà comunicato il nuovo organigramma societario. Allora, non siamo riusciti? C'è un servizio... Ok, non siamo riusciti a ripristinare il servizio, ma ve lo proporremo sicuramente nelle prossime edizioni del telegiornale. Siamo riusciti a recuperare, invece, grazie alla nostra Giada, un servizio di sport che vi avremo proposto stasera, ma ora ci serve per arrivare a fine telegiornale. c'è la presentazione del completamento dello staff tecnico degli Erons Montecatini che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B nazionale. Il prossimo anno ci sarà B nazionale e B regionale. Gli Erons, ma anche la GEMA, parteciperanno alla massima categoria della Serie B. Alessio Marchini è il nuovo vice allenatore degli Erons Montecatini per il prossimo campionato di Serie B d'eccellenza di basket. Dopo la riconferma per tre anni di coach Federico Barzotti, ecco che arriva come primo assistente l'ex allenatore di San Mignato in Serie B, ma anche di Empoli, Luca Pontedere e Castelfiorentino. Dal primo momento in cui ho parlato con Andrea Lucchi ho avuto chiaro l'importanza del progetto, l'importanza anche del contesto di società di Erons e inoltre la conoscenza con Federico Barzotti e la sua insistenza ha fatto sì che ha fatto questa scelta e molto convinto perché secondo me è importante non tanto il cosa fai ma il dove lo fai. Vi dico anche che Gabriele Carlotti sarà confermato come assistente allenatore, quindi il trio della prima squadra sarà Federico Barzotti che ha appena prolungato estendendolo per tre anni. Ieri abbiamo annunciato il nuovo preparatore fisico che è Alessandro Miotti, oggi presentiamo Alessio Marchini che è una persona che ha veramente poco bisogno di presentazioni perché ha una carriera da capo allenatore importantissima, ha fatto anche sette anni, un'esperienza incredibile nel settore giovanile di Trento in Serie A che è uno dei progetti secondo me più belli della Palacanese italiana. A Marchini sarà affidato anche il ruolo di responsabile del settore giovanile a testimonianza che la società Rosso Blu vuol lavorare soprattutto per il futuro. Io sono stato quasi otto anni a Trento a fare responsabile del settore giovanile, quindi all'Aquila Trento in Serie A e è un'esperienza che mi porto dietro e vorrei cercare di trasmettere qualcosa, però ecco il messaggio che voglio passare è che piano piano, con la giusta gradualità, partendo dalla struttura, partendo dagli staff, partendo dalla base, avendo come primo obiettivo non tanto i risultati sul campo ma quanto la struttura e anche la crescita del numero dei ragazzi. Andiamo per ordine, allora rimanete su TVL. Per il pomeriggio vi proponiamo in forma salute la rubrica di medicina e benessere fra poco, poi acqua in bocca ma non troppo, rassegna culturale che sta andando anche molto bene dalle terme Tettuccio di Montecatini. Poi un posto a tavola con azzurra alle 17.10, alle 17.45 Asci Sport Magazine, oggi passano anche le auto storiche delle Mille Miglia a Pistoia in centro, poi vanno sulla montagna per andare in Emilia, però intanto passano dalle 15.30 in poi per tutto il pomeriggio in Piazza Duomo, ci saremo anche noi anche in quel caso. dicevo Asci Sport Magazine per parlare di rally a cura di Asci Sport, alle 19 torniamo noi, ma non dimenticate la serata con Sport d'estate e poi anche il ciclismo dedicata allo sport della nostra zona e non solo. È tutto, grazie per la cortesia attenzione. Grazie per la visione!